Un punto di ritardo in più nei confronti della capolista Tim Altamura, da meno 2 a meno 3. Effetto per il Nardò della sconfitta interna nel derby del Salento contro il Cassarano al Giovanni Paolo II, deciso per gli ospiti dal gol nel finale di Raikovic, e dal contemporaneo pari senza reti della prima della classe nel derby della Murgia giocato a Gravina. Nessun dramma però, nell'entourage né retino. Accettiamo le scoffite terenamente, perché sappiamo che il Cassarano è una squadra forte e ci sta anche a perdere queste partite. Il Cassarano è stato più bravo, un po' più fortunato di noi a sfruttare questa occasione a 5 minuti alla fine. Perciò la squadra comunque ha combattuto, la squadra ha fatto quello che doveva fare, però poi su certi episodi non puoi recriminare niente, perché ci c'è pure un po' di fortuna rispetto a... Perciò gli episodi tanti volte sono stati favorevoli, questa volta è stata sfavorevole. Cambia poco, in realtà da meno 2 a meno 3 per Leonardo, anche con l'aggancio in seconda posizione di un Martina lanciatissimo. Ribadisco il concetto che questo campionato nulla è scontato. Non è scontato che la prima della classe vinca con l'ultima, non è scontato che non si possa inserire qualsiasi squadra nella lotta, anche squadre che in questo momento stanno a 9-10 punti dall'altra mura, che siano fuori del tutto. È un campionato bello proprio per questo, è il più difficile d'Italia proprio per questo motivo, perché c'è tanto equilibrio e alla fine, fino all'ultima giornata, ci sono sempre delle sorprese. Ad orizzonte per il Nardò c'è un altro derby del Salento, quello in trasferta di domenica 18 febbraio contro il Gallipoli, che anticiperà di sette giorni la super sfida al Giovanni Paolo II contro la Capolistati Maltamura. Prima del K.O. col Casaranno e a partire dalla battuta d'arresto interna dell'andata, sempre con i rossazzurri di la terza, i Nerettini sono riusciti ad infilare un intero girone con una sola sconfitta, quella pre-natalizia, col Santa Maria Cilento, nell'ultima del 2023 e a mattino. Serve ora un altro filotto sostanzioso per Alessio Antico. Il campionato di Serie D lo vincerà. Chi sbaglierà di meno, nel senso che ci saranno tanti scontri diretti, chi riuscirà a sbagliare di meno. C'è anche quella percentuale di fortuna che serve per vincere i campionati. Perciò io penso che le squadre fino all'Andrea, sono tutte squadre che si gualgono come rose, e come livello tecnico. Perciò ci saranno importantissimi gli scontri diretti. Voglio sempre ricordare che squadre come noi, come il Martino, come l'Andrea, già è difficile rispettare i pronostici in questo campionato per giocartela fino alla fine. Già giocartela fino alla fine è già una vittoria, poi ne sale solo una e quindi chi sarà più fortunato e più bravo la spunterà sulle altre.